Diciamo che ho fatto una buona partenza come in gara 1 e poi sono partito, andavo abbastanza forte, la macchina era molto molto bene bilanciata e ringrazio il mio team, la Ferrari Driver Academy che mi ha permesso di andare forte in gara 2. Avevamo avuto un po' di problemi in gara 1 però abbiamo risolto tutto. Adesso ti trovi in seconda posizione in campionato alle spalle di Campana, pochissimi punti, cerchi il colpaccio anche lì in campionato? Sì, diciamo che il campionato è molto chiuso ancora, penso che si giocherà tutto a Monza, Monza è una pista che mi piace tanto, che mi ha fatto vincere il titolo della Formula Abarth l'anno scorso, quindi diciamo che siamo messi bene. Ok, grazie Brandon Maisano, complimenti per questo successo, ricordiamo il successo di Maisano a Franciacorta in gara 2, in gara 1 ricordiamo Mancinelli sul bagnato, poi in gara 2 Brandon Maisano conquistò la vittoria nel weekend di maggio sul circuito Lombardo. Grazie a tutti.